Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Io sono Fio e anche oggi vi narro una storia. Allora, la storia di oggi è particolarmente pesante, proprio una di quelle in cui so già che sarà difficile raccontare, ma anche quello che causerà in coloro che ascoltano. Mi rivolgo in particolare ai genitori di ragazzi in età adolescenziale, in zii, nonni, educatori, insegnanti, in questa fascia di età qui, perché i protagonisti della nostra storia hanno dai 14 ai 17 anni. E so bene che anche se tutti noi verremo davvero violentati da questa storia che vi racconto, c'è questa fascia che sarà più toccata e più sensibile, perché lo sperimentiamo tutti. Noi tendiamo comunque a dimedesimarci nella nostra quotidianità, nei nostri affetti. E come io ad esempio vengo più traumatizzata dalle storie che raccontano di bambini molto piccoli, questo sarà il caso di coloro che ascoltano oggi. Faccio questa premessa perché penso che YouTube debba essere un posto dove comunque in qualche modo si venga tutelati anche da coloro che fanno i contenuti, soprattutto da coloro che fanno i contenuti. Quindi io non vi sbatto storie, foto, video o comunque racconti fatti per impressionarvi. E quando so che, mio malgrado, la storia sarà particolarmente delicata, cerco comunque di prepararvi. Perché penso che sia una responsabilità di coloro che fanno questi video. Quindi ora la chiudo, però quando arriverà il momento io vi preparo, vi dirò che ci sarà un momento molto difficile, molto delicato. E potrete saltarlo perché comunque capirete lo stesso di cosa stiamo parlando. Vi farò poi un piccolo riassunto veloce, ma molto meno pesante, ok? Partiamo col video. Anche oggi ci troviamo in Sicilia per la precisione a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove ci sono delle province fatte di paesini che assomigliano ad isole, divise da qualche montagna tra loro. Una terra che ti appare come povera, come brulla, ma che in realtà ti regala meravigliosi frutti, come ad esempio gli splendidi ulivi di questa zona in particolare. Ci sono poi case abbandonate, cascine in disuso, attrezzaie e ci sono anche i pozzi. Ed è in questo angolo di Sicilia che nasce e vive la protagonista della nostra storia, che è Lorena Cultraro. I genitori di Lorena sono giovanissimi quando si conoscono e si conoscono in Toscana, dove entrambi stanno lavorando, il padre Giuseppe come bianchino e la madre Lidia come operaia. Dalla loro unione nascono due bambini, Lorena e un fratellino. Dopo due anni dalle nozze, la coppia decide di rientrare in Sicilia perché il lavoro scarseggia. L'affitto della casa è molto alto e quindi preferiscono rientrare in Sicilia per avere almeno il sostegno delle rispettive famiglie. E Lorena nasce quindi proprio qui, Lorena nasce a Niscemi. È cocolatissima da quei due giovani genitori un pochino impreparati alla genitorialità. Ma sono felicissimi, la sua è un'infanzia serena, è molto amata, cresce come una bimba gioviale e spigliata dal caschetto bruno e gli occhi profondi. Cresce e rende orgogliosi i suoi genitori. La sua è una famiglia molto semplice, umile, insediata in un quartiere periferico ma ricco di relazioni significative e affettive. Infatti il padre di Lorena Giuseppe vive nello stesso stabile di sua sorella Maria. Il primo sta sopra, la seconda sotto, come in molte famiglie siciliane, del sud, ma anche qui da noi, insomma, più al nord, al centro. Però in Sicilia è molto sentita questa cosa, lo dico perché ho famiglia sicula, quindi lo so. Quindi Lorena cresce attorniata dai cugini, la stessa zia la considera come una seconda figlia. Anni sani e sereni e poi arriva l'adolescenza e quella di Lorena sarà, lo vedrete, uno specchio per molti di noi. La classica adolescenza, come viene descritta. Trasforma la sua cameretta nel suo mondo privato, dove tutto viene raccontato e celebrato. Da ogni foglietto appeso alle pareti, alle foto, alle scritte, ai suoi peluche, allo stereo. Lì dentro, in quella stanza, c'è un concentrato di emozioni ancora timide, che aspettano soltanto di esplodere, ma che stanno sbocciando in maniera prepotente. Lorena pensa molto in quella stanza. I suoi pensieri bucano i fogli delle pagine del suo diario segreto, che diventa un po' il centro del suo universo. E lascia fuori dalla porta i suoi genitori. Lorena non ha in questo momento tantissimi amici, perché ha terminato le scuole medie. I suoi compagni vivono in altri quartieri, quindi in una fase di transizione. E il padre è iperprotettivo nei suoi riguardi, rifiuta di accettare che la figlia stia crescendo. Lorena vorrebbe ad esempio truccarsi, e lui invece non vuole. Iniziano quindi i primi scontri, ma sono scontri normali e tranquilli. E la zia di Lorena è la madre, lì dia ad intercedere, a parlare appunto con il fratello e il marito, a dirgli Giuseppe lascia che si metta un po' di matita e di lucida labbra, cosa vuoi che accada? Lorena ormai sta diventando grande. E alle pagine di questo diario segreto Lorena affida tutto, le delusioni a scuola, le amicizie, le speranze, i sogni, e soprattutto le prime cotte e le conoscenze con il mondo maschile. Lorena infatti ha 14 anni appena compiuti, che sono gli anni dei sogni e delle prime cotte, ma anche delle inquietudini e dei turbamenti sessuali che iniziano. Insomma a Lorena iniziano ad interessare i ragazzi, quindi inizia a raccontare proprio questo sul suo diario. E racconta del suo primo amore, che ha come cornice il complesso scolastico Leonardo da Vinci, un complesso che ospita il liceo, l'agraria e l'istituto commerciale. Non so se si dica l'istituto agrario o l'istituto, qui da noi la chiamiamo agraria, però in realtà credo che si chiami, sì, l'istituto agrario e l'istituto commerciale. Comunque i giovani del luogo e dintorni si incontrano tutti lì. Chi non vuole proseguire invece con gli studi o chi frequenta la scuola soltanto a spizziche e bocconi, per poi mollare definitivamente, va a lavorare, va nelle campagne del luogo, zappa la terra o va a lavorare come manovale. Le possibilità sono queste, c'è tanto bisogno di andare a lavorare subito. Insomma, i giovani preferiscono in particolare buttarsi subito su qualcosa che renda, anche se spesso rende molto poco. Ma Lorena piace studiare e a scuola va molto bene ed è sempre lì puntuale ogni mattina, a differenza di molti suoi compagni invece che a ruota mancano. Insomma, un giorno c'è uno, un giorno c'è l'altro, eccetera. Il cosiddetto fenomeno della dispersione scolastica, dove fuggono i giovani dai banchi e riacciuffarli, è un'impresa ardua. Ma non Lorena, lei siede lì al suo banco, studia, chiacchiera con le sue amiche come ogni quattordicenne. Non esce moltissimo, esce solo il pomeriggio perché il padre è molto rigoroso e severo e non vuole che esca la sera. Ancora la vede come la sua piccina, acqua e sapone e persino le mesh che si fa sui capelli non gli vanno giù. Ma Lorena, che lui lo voglia o no, sta fiorendo. Il suo seno è cresciuto, i fianchi si modellano e le gambe sono sempre più slanciate. Sì, lui la vede serena, ma Lorena dissimula, è corrosa da alcuni turbamenti che riguardano l'amore, che lei si immagina giustamente con la A maiuscola. I primissimi innamoramenti sono inebrianti e come nel celebre film che lei in quegli anni guarda, molto famoso a quel tempo tre metri sopra il cielo, Lorena scrive proprio così, Io e te tre metri sopra il cielo. E sul suo diario Lorena scrive Il mio amore per te è come un oceano infinito, è come l'acqua di una sorgente, limpido e puro come il sole e il caldo, luminoso e intramontabile. Lorena è appassionata, poetica, romantica, tenera, si immagina giustamente l'amore come qualcosa di meraviglioso, di essere rispettata e amata da quello che lei vede come il principe azzurro. Usa queste frasi, anche questi aforismi, scrive imprimendo i suoi pensieri su dei foglietti della Diddle, credo che si chiamino così, vi metto una foto. E questa cosa mi ha particolarmente colpita perché anche io a scuola usavo questi stessi foglietti alle medie e alle superiori, quindi ho ancora i miei diari di là che ho ottenuto con questi foglietti qui. Quello lì è il suo mondo privato, il suo rifugio e nessuno ci deve entrare, soprattutto mamma e papà. Non che non li ami, sia chiaro, non ci sono particolari litigi, ma nemmeno grandi confidenze. La sua camera è il suo giardino segreto, via i giochi e i ricordi bambineschi, c'è spazio solo per i suoi peluche, a cui è molto affezionata. Puoi postre alle pareti con i cantanti che ha da poco scoperto e con cui si identifica, come ad esempio i Tokyo Hotel, i Finlay e Evry Lavigne. Ogni cosa lì dentro deve parlare soltanto di lei. e sua madre Lidia immagina che Lorena sia le prese con le prime cote adolescenziali, ma non vuole forzarla perché non nota segni di turbamento particolari e pensa che sia giusto rispettare il bisogno di riservatezza di Lorena. Così non immagina nemmeno le recenti conoscenze della giovane, di sua figlia, che sono quelle con tre ragazzi in particolare. Allora, noi li chiameremo Marco, Antonio e Salvatore e li chiameremo così perché sono minori quindi i loro nomi non sono stati resi noti. Ho guardato diverse interviste e documentari e i nomi cambiavano. Mi sono fissata in testa questi tre nomi quindi per non sbagliarmi uso Marco, Antonio e Salvatore. E vi fermo dicendovi che appunto non sono persone adulte, non hanno vite particolarmente drammatiche o non sono persone particolarmente cattive. No, sono dei ragazzi tranquillissimi. Sono dei coetanei di Lorena di cui lei si fida. Non sono i cosiddetti giovani devianti con una particolare cattiveria in corpo. No, questa storia oggi ci paralizza come sempre poi avviene nelle mie storie così tanto perché anche oggi c'è questo senso di assoluta normalità che genera il male e che sconvolge. sono tre ragazzi normalissimi. E i genitori di Lorena non si accorgono di nulla perché in superficie è il solito laghetto limpido e privo di increspature. Lei si alza va a scuola mangia fa i compiti guarda il suo telefilm preferito sorride chiacchiera ma è strana sempre sempre allegra il padre la definisce la mia bambina di sempre ma sotto quella superficie liscia c'è un mulinello di emozioni inaspettate e sconvolgenti. Lorena infatti non si rispecchia più nell'immagine di una bambina però non si è ancora formata all'immagine di una donna e quindi un momento molto delicato lei vuole crescere vuole farlo subito come nei suoi mati telefilme dove però non c'è tutta la parte pericolosa o comunque la parte difficile ecco. Lei rimane comunque di base pura innocente e sognatrice il primo ragazzo di cui Lorena si invaghisce appunto lo chiamiamo Marco ok e sarà diciamo il fidanzatino di Lorena il suo primo amore lui ha 15 anni ed è il primo che va a riempire le pagine del suo diario ma non sarà il solo quando parla di lui Lorena è molto dettagliata lo conosce poco eppure all'improvviso questo ragazzino diventa tutto il suo mondo lui è quel motorino con cui scorazza insieme ai suoi due immancabili amici quando scrive di lui Lorena si prende tanto tempo sottolinea con l'evidenziatore giallo riempie di colore le lettere che sono chiuse bombate e sottolinea con il colore viola le parti ancora più importanti scrive poesie in mezzo a tacca adesivi e fa dei disegni e se qualcosa non va bene e se c'è qualche sbavatura lei straccia tutto e ricomincia perché vuole che sia perfetto anche Marco nota Lorena soprattutto nota l'interesse che desta in lei ha le forme al posto giusto è carina ma soprattutto Lorena è innocente e desiderosa di compiacerlo cioè si scioglie i suoi piedi come un gelato quindi questo lui lo nota quindi Marco le scrive il primo sms e poi altri e per Lorena è la vita cioè è un sogno si messaggiano in continuazione e lei non vede l'ora che lui finalmente le chieda di uscire pensa che forse non è abbastanza carina forse qualcosa manca quindi inizia a truccarsi un pochino di più ma ovviamente lontano da casa si mette matita mascara un filo di lucida labbra e alla fine lui dopo un po' le chiede di uscire e Lorena è inebriata è davvero tre metri sopra il cielo forse anche di più si sente inadeguata Lorena nell'abbigliamento lo scrive nel suo diario non ho nulla di chi è ma non ho i soldi per acquistarlo né un'amica che possa prestarmi qualcosa di particolare quindi per il loro primo incontro mette un jeans e una maglietta scura la notte prima del suo appuntamento Lorena non dorme e scrive tutta la notte il suo diario scrive tutti i suoi timori le sue paure ma anche la sua gioia e mamma e papà sanno che andrà da un'amica quando il momento arriva lei lo aspetta l'uscita da scuola sotto ad una palma impaziente e finalmente lui arriva motorino bello come non mai suona il clacson per chiamarla e lei io questo lo dico io è l'unica cosa non che non ho ritrovato che vi dico ma ne sono certa lei ha le farfalle nello stomaco vi ricordate quella sensazione ma poi il suo campo visivo si allarga e Marco non è solo perché insieme a lui ci sono altri due amici motorino e beh Lorena è anche delusa e ci sta perché dice che appuntamento è se non è solo i due sono un pochino più grandi di Marco Antonio ha 16 anni Salvatore ne ha 17 e fa il carrozziere sono tre ragazzi che fanno quel che devono frequentano due saturamente la scuola uno dei tre lavora già sono già proiettati per lo più nel mondo del lavoro devono solo recidere del tutto il cordone che ancora li lega la scuola però ha fatto quel che devono le loro giornate le passano il motorino hanno molta libertà poche regole ferre se non quelle di non fare bravate chiaramente a differenza di Lorena loro possono uscire la sera lei soltanto qualche oretta al pomeriggio ma sono assolutamente tre giovani normali come tanti nulla di nota nulla da segnalare ok Lorena si consola quel giorno pensando che comunque sono simpatici le dedicano molte attenzioni e quindi vanno a fare un giro nelle campagne della contrada di Valle Giumara vicino ai Scemi un luogo isolato dove solitamente vanno a bere una birra e quel giorno ci portano anche Lorena sono lontani da sguardi indiscreti completamente lontani con soli 5 minuti di motorino avviene questo è la campagna sicula sei ad un passo dal centro ma sperduto dal mondo quindi Marco la fa sedere chiaramente dietro di sé nel motorino lei si stringe a lui ed è davvero la cosa più esaltante e ribelle che lei abbia mai fatto Marco è così premuroso l'avvisa quando la strada è piena di buche e dissestata affinché lei si tenga più salda a lui e alle 17.30 puntuale la compagna nei pressi di casa prima di salutarla però le dà un lungo bacio sulle labbra con la promessa di rivedersi già l'indomani mentre sullo sfondo Antonio e Salvatore osservano Lorena quel giorno è veramente felicissima premurosa i suoi genitori se lo ricordano aiuta la madre è frizzante briosa brilla di luce propria quando le chiedono il motivo di tanta gaiezza sta ben attenta a non tradirsi dice che ha preso un bel voto scuola ha conosciuto delle nuove amiche insomma è davvero un momento molto felice per lei però poi quando entra in camera si getta famelica sul suo diario per raccontare soltanto a lui tutta la verità vedo tanti colori che mi ricordano vecchi amori ma nel mio cuore ci sei solo tu e quei colori sono i tuoi ritratto il nero i tuoi capelli che si tuffano nei miei il verde la speranza di incrociare i tuoi occhi il rosso le tue labbra che si uniscono alle mie il blu il cielo sotto il quale ci siamo incontrati ti amo Lorena fantastica si immagina già che lui la tenga per mano davanti a tutta la scuola e così giorno dopo giorno quella diventa la sua routine passa qualche mese e Lorena continua questa relazione amorosa ma con una precisazione lei e Marco non sono mai soli sempre in compagnia dei suoi due amici che lui si porta sempre appresso diventa un rito lei va in piazzetta loro la passano a prendere con il motorino e via che si scappa alla valle per lo più chiacchierano ridono Marco qualche volta la bacia e la carezza quindi una simpatia che piano piano si tramuta anche in un'intimità fisica ma non sono mai da soli se non forse quando si scrivono montagne di sms dico forse perché la prova non ce l'abbiamo e Lorena appunto pensa questo quindi fatica a lasciarsi andare anche con gli sms perché ha paura di sbilanciarsi troppo ha paura che ci siano anche i suoi due amici con lui quindi si trattiene però si mandano davvero tantissimi messaggi lei addirittura a volte non fa i compiti quindi poi li fa la notte perché è comunque una ragazza dirigente non vuole perdere la scuola e alla mattina è molto stanca però ne vale la pena e poi piano piano però qualcosa cambia un assetto un equilibrio perché anche i due amici di Marco presa confidenza con Lorena iniziano anche loro a dimostrarle un interesse iniziano a rivolgerle alcune tenerezze a scriverle dei messaggini all'inizio innocenti il fatto sta che a marzo del 2008 Lorena non va mai a letto se prima non riceve e non dà la buonanotte a tutti e tre e in fondo in fondo ne è lusingata perché a tre ragazzi più grandi di lei le danno una montagna di attenzioni e lei fa parte del loro gruppo si sente molto più sicura la sua autostima sicuramente va alle stelle è nutrita in maniera positiva da questa situazione e piano piano l'intimità fisica con Marco si allarga in alcuni passi del suo diario lei scrive mi ha chiesto di fare l'amore con lui ho rifiutato abbiamo litigato mi ha telefonato e mi ha chiesto scusa sono andata al mare con lui e non ho resistito sono sua quindi Lorena è innamorata e quando Marco le chiede di fare l'amore lei all'inizio tentenna cioè non si concede subito ma alla fine cede perché ha paura di perderlo e perché non vuole tornare indietro vuole diventare grande e uscire da quella solitudine che ormai prova i baci e le carezze che si sono dati per mesi piano piano sono evoluti in qualcosa di proibito e quando questo avviene Marco però la porta un po' più in là da Antonio e Salvatore ma loro sono sempre lì nei paraggi a guardare a immaginare anche e i genitori di Lorena non sospettano nulla sanno che lei si alza va a scuola torna a casa aiuta la mamma fa i compiti poi esce con la sua amica del cuore ma a mangiare un gelato in piazzetta e rientra a massimo per le 18 poi le chiacchiere davanti a casa seduta con la nonna e la zia e il bacio prima della buonanotte non sospettano che sul diario ci sia proprio una seconda vita una doppia vita fatta anche di altro perché Lorena ha 14 anni fino ad un soffio prima era ancora una bambina ma è cresciuta molto in fretta è cresciuta molto in fretta ma di tante cose Lorena ancora non sa nulla sa poco del sesso ad esempio come si fa e che cos'è e la sua prima volta la descrive nel diario così Marco è stato davvero gentile e premuroso forse questo per lei è il giorno più completo e bello della sua vita perché lei scrive che ora è la sua fidanzata ufficiale perché chiaramente si è concessa a lui e quindi per forza deve essere così ma quello che Lorena non sa è che Marco il suo fidanzato ha già un'altra fidanzata ufficiale non è libero e non è soprattutto sincero con lei affatto un giovedì mattina Lorena ha un bruttissimo mal di pancia vuole stare a casa da scuola a letto ma in realtà sì la pancia le fa male ma le fa male anche un pochino più in su le fa male il cuore perché ha appena saputo lui è fidanzato e nemmeno da poco e nulla ha più senso come ho fatto ad essere così stupida pensa quel giorno Marco ma anche Antonio e Salvatore la bombardano di telefonate lei è davvero combattuta perché non vuole farsi vedere in quello stato non vuole apparire debole e così decide alla fine di incontrarli ma ignora totalmente Marco che chiaramente è al centro del suo interesse si siede dritta nel motorino con un altro dei suoi amici in campagna fa finta di niente scherza con Salvatore e Antonio e non degna di un'occhiata a Marco e così Antonio pensa che beh magari le può chiedere di andare a vedere qualcosa dietro ad un rudere e lei accetta pochi giorni dopo stessa tiritiera anche Salvatore è desideroso dimostrare qualcosa di interessante dietro ad un casolare e anche qui lei accetta perché vuole fare ingelosire Marco ma in realtà lui non è affatto geloso la osserva con gli amici ma senza troppi pensieri è divertito per giunta perché loro sono d'accordo dall'inizio è chiaro e ciò che li muove è la mentalità del branco lei è cerchiata da tempo ma non se ne è mai accorta infatti per loro Lorena è un gioco è uno sfizio la considerano un passatempo non hanno alcun senso di responsabilità verso di lei non c'è sentimento non c'è compassione alle sue spalle sono crudeli la deridono la considerano una facilona ma poco di buono una stupida mentre non si accorgono che è soltanto una bambina che ha appena smesso le bambole ed è finita in un gioco più grande di lei non c'è sensibilità verso la sua innocenza né protezione e ad un certo punto questa triste storia che potrebbe fermarsi qui degenera per un motivo Lorena si è chiusa nel bagno della scuola le mani sudano le mutandine sono abbassate sta fissando qualcosa tra le sue mani un tasto di gravidanza si sente sola ha paura ha senso di nausea porta diversi giorni di ritardo e non sa bene come fare né come dirlo a Marco ma vorrebbe tanto che se proprio quel bambino debba essere di qualcuno sia il suo tanti pensieri le sfrecciano nella mente come su un'autostrada impazzita e si chiede lui vorrà bene al bambino lascerà la sua fidanzata Lorena un po' ha paura e un po' fantastica perché si immagina Marco accanto a lei per il resto dei loro giorni perché poi i genitori di lui sicuramente lo obbligheranno ad assumersi le sue responsabilità non permetterebbero mai uno scandalo quindi noi staremo insieme è per questo che quando vede una sola linea rossa sul test è delusa alla fine l'amica fuori che l'aspetta come una sentinella l'abbraccia ma poi le dice anche Lorena questa volta devi stare più attenta e si arrabbia le voci però tra i ragazzi circolano e quindi anche i tre in qualche modo lo sanno e quando lo scoprono sono tesissimi e si arrabbiano si arrabbiano con Lorena solo per il fatto che Lorena esista cioè che questa cosa stia accadendo quando la raggiungono al telefono sono imbestialiti ma come ti sei permessa di farti saltare il ciclo ed è in questa occasione che Antonio e Salvatore fanno anche i rispettivi nomi e cognomi delle loro fidanzate e non vogliono seccature perché lei è la seccatura Lorena a casa non racconta assolutamente nulla ma è preoccupata perché anche se il test è negativo il ciclo ancora non le arriva lei cerca i sintomi su un pc a scuola va su internet e le sembra di averli tutti questi sintomi è stanca il seno le duele ha la nausea è irritabile è nervosa fa spesso la pipì e poi una mattina addirittura vomita la colazione quella stessa sera sola e angosciata Lorena digita un messaggino come sempre ma non ha la buonanotte nei confronti di Marco è una conferma sono incinta ne sono sicura lei lo invia a Marco ma poi si rende conto che non va bene manca qualcosa quindi fa copia e incolla e lo invia anche a Antonio e Salvatore perché lei non sa chi sia il padre tra i tre i tre tremano ancora hanno paura ma insieme alla paura scaturisce anche un altro sentimento dal loro cuore un odio un odio profondo ormai la presenza di Lorena è vissuta dai tre come una scocciatura un incubo un intralcio alle loro vite si sentono in qualche modo ricattati da lei dal suo corpo e forse anche lei sente di avere finalmente una presa un potere su quei tre ed è per questo che esagera perché dice a me non interessa chi sia il padre ma chiunque sia deve prendersi le sue responsabilità cosa responsabilità ma sei incinta allora o non sei incinta perché lei alla fine è capace di fargli passare i guai i tre si incontrano subito per una riunione d'emergenza sulle scale della chiesa di Niscemi sono molto preoccupati e bestemmiano su quelle sacre scale contro Lorena Marco è quello più imbestialito di tutti perché la odia davvero con tutto se stesso e lei che l'ha messo in quella situazione dice con gli amici se fosse vero io sono costretta ad avercela tra le palle per tutta la mia esistenza bevono birra imprecano tentano di calmarsi poi bevono birra e imprecano di nuovo e poi iniziano con delle confidenze piuttosto vomitevoli ma voi ve la siete fatta? chiede Marco sì e come ci abbiamo dato dentro per ore c***o e tutti e due lo confermano quindi Marco si sente sollevato perché spera che non sia soltanto lui ad essere nei guai eppure gli amici gli sembrano molto più tranquilli allora propone il piano numero uno cioè di sputtare Lorena in pubblico diciamo che Lorena è andata con un tale tizio di un paesino a fianco che è rimasta incinta così quando si saprà abbiamo già messo in giro una voce Antonio il secondo sembrano i tre porcellini e lo sono frena la dobbiamo punire perché lei deve capire chi comanda e se lo deve ricordare per il resto della sua vita e chissà che questa punizione non le pulisca anche la pancia e poi interviene l'ultimo dei tre il terzo Salvatore che è rimasto in silenzio tutto quel tempo punirla non basta calo il silenzio in quella notte del 29 aprile del 2008 e lì in quella piazza mentre la mente del branco pensa il destino di Lorena è già segnato e quella notte nessuno dorme è il 30 aprile del 2008 il giorno dopo Giuseppe il papà di Lorena sta pranzando quando alle 13.30 Lorena torna da scuola si siede con lui e racconta la sua mattina e anche il padre le racconta che si è svegliato all'alba per lavorare e quindi che andrà a riposare un po' e poi si guardano un'ultima volta solo che lui ancora non lo sa Giuseppe va a riposare e Lorena pranza e si mette a fare i compiti dopo aver riposato Giuseppe esce sono circa le 15.30 e Lorena è tranquilla finché non riceve una telefonata è uno dei tre che le chiede di vedersi perché vogliono chiarirsi quella situazione della gravidanza li sta un po' preoccupando è molto stressante Lorena tentenna perché quel giorno non deve vederli e non vorrebbe uscire ma lui insiste è importante dobbiamo parlare insieme e quindi Lorena cede si danno appuntamento in piazza per parlare tutto lì quindi Lorena esce ma prima saluta la mamma starò via poco torno a casa entro le 18 e poi ceniamo con papà Lorena quindi aspetta in piazza e tra arrivano con il motorino e lei è serena perché comunque non immagina nulla di brutto ma loro arrivo loro sono già aggressivi e sbrigativi alzati andiamo via di qui perché qualcuno potrebbe vederci Lorena non è convinta e allora loro la costringono a salire la strattonano e la tirano per i capelli sono brutali da subito non c'è alcuna dolcezza alcun preliminare e questa cosa sconvolge Lorena e si allontanano verso l'aperta campagna avete già notato dalla mia voce che ormai chi mi segue da tanto conosce anche le sfumature di questa voce che comunque tende ad incrinarsi quando mi emoziono quando provo sensazioni ed emozioni forti che ci stiamo avvicinando al punto quindi potete saltare questa parte che è veramente molto pesante ma molto pesante e non so come farò a raccontarvela ma ce la faremo quindi la potete saltare e poi io vi metto il minuto in cui voi potete riprendere questo discorso e io vi dirò semplicemente che cosa è accaduto in tre parole ecco ok quindi si dirigono in aperta campagna verso un luogo isolato verso la solita zona dove di solito andavano quindi con trada di vale giumara arrivano fino ad un casolare abbandonato uno di quei casolari che come vi ho raccontato all'inizio ha nel pacchetto incluso anche un pozzo lì la dovranno punire e hanno già deciso come farlo chiaramente appena arrivano lei scende dal motorino e cerca subito di scappare perché Lorena non è stupida e ha capito che c'è qualcosa che non va ma loro la broccano e non c'è alcuna parola vi ho detto alcun preliminare sono subito feroci con lei si alimentano l'un l'altro la tirano per i capelli la trascinano proprio per i capelli dentro e uno dei tra le dà uno schiaffo in pieno viso le dicono spogliati subito lei è in trappola e non può fare nulla perché si è sempre fidata di loro ma adesso loro la guardano con occhi diversi lei prova a ribellarsi ma la immobilizzano e la gettano a terra iniziano a incombere su di lei la picchiano le danno sberle i pizzicotti le tirano i capelli e poi la spogliano le strappano via tutto e ad ogni vestito che se ne va Lorena ha già perso un pezzetto di sa dunque via la maglietta via i jeans via il regissino via le mutandine Salvatore è il primo ne sbatte la faccia al pavimento si slaccia i pantaloni mentre gli altri vanno fuori ad aspettare il loro turno Salvatore la costringe a guardarlo mentre abusa di lei le urla guardami devi guardarmi quando ha finito se ne va e la lascia lì con gli occhi pieni di lacrime nuda e sporca esce fuori ed è davvero molto fiero di sé si dà il 5 con gli altri due amici e ora sotto a chi tocca il prossimo è Antonio Lorena si accascia al muro prova ad urlare ma lui se ne frega ora tocca a lui mischiarsi con lei che lo voglia oppure no la cosa non lo riguarda non ha mai avuto alcuna importanza anche per lui quando ha finito ed esce sono fischi e urla di giubilo infine tocca al fidanzatino di Lorena Marco quello che aveva animato ogni pagina del suo diario lui si avvicina e Lorena ancora spera che abbia per lei compassione ma per lui lei non è nulla è solo carne per generare piacere non la vuole nemmeno guardare quindi le spinge la faccia contro la terra e il cuore di Lorena in quel preciso istante si frantuma dopo averla seviziata a turno e violentata a più riprese si preparano alla fase 2 perché non hanno ancora finito con lei quando vanno da lei Lorena è sotto shock è nuda con la faccia contro la terra è piena di escoriazioni il loro seme le scivola tra le gambe il suo cervello non sappiamo cosa stia pensando ma io in questo preciso momento ho sperato che lei si fosse allontanata in qualche modo da lì in un posto lontano è sicuro ma no lei è ancora con loro perché adesso con un filo di voce inizia a supplicare ok ho imparato la lezione ho capito ma Antonio le tira uno schiaffo così forte che le spacca il labbro e poi ancora pugni e calci sulla schiena sul viso e soprattutto sulla pancia e lo fanno tutti e tre insieme la insultano con ogni parola immonda possibile che preferisco evitare di ripetere e continuano così finché lei smette di reagire forse qui di nuovo lo spero raggiunge quel posto lontano quel rifugio che io spero si schiuda per le persone che patiscono un martirio del genere uno la tiene per le mani uno per i piedi e un altro le mette un cavo elettrico al collo da dietro la tengono così con forza tutti insieme lei si dimena sussulta si aggrappa con le dita quel cavo che però viene stretto da mani crudeli mani che un tempo l'avevano accarezzata se ne va via così Lorena e l'ultima persona che vede è proprio Marco quello che credeva il suo dolce premuroso fidanzatino lui la fissa si avvicina e le chiude la bocca con un fazzoletto non una parola e nemmeno uno sguardo per lei la lasciano ricadere a terra e se ne vanno e su di lei cala il silenzio attorno a lei c'è sangue ci sono i suoi vestiti sparsi le scarpe rovesciate il suo corpo nudo e scomposto ha sofferto tanto Lorena è stato davvero un incubo credetemi noi non eravamo lì ma possiamo dirlo ed è per quello che io spero che a un certo punto lei sia volata lontano da quell'orrore perché la violenza è stata disumana ne hanno fatto cose di una ferocia estrema e tutto questo non è durato cinque minuti che comunque sarebbero stati troppo ma almeno mezz'ora e si sarà chiesta Lorena sto sognando o è tutto vero sta accadendo davvero tutto questo si sarà quasi osservata dall'alto pensando che non è vero non sta accadendo davvero lei mi devo svegliare devo tornare a casa cena con mamma e papà entro le 18 eppure non mi risveglio lei rimane lì dopo averla uccisa e trapensano alla terza fase che è la distruzione del corpo di Lorena poco distante da lì c'è un pozzo profondo con tre metri d'acqua e lì la trascinano le legano prima un grosso masso intorno alla caviglia e poi la gettano giù senza alcun rimorso per loro è una liberazione non averla più tra i piedi finalmente il corpo di Lorena si inabissa tre metri sotto il livello dell'acqua non tre metri sopra il cielo loro si assicurano che lei affondi completamente e poi si siedono esausti per decidere come proseguire non parliamone al telefono non parliamone per nulla diciamo solo che l'abbiamo vista vicino alla scuola salire sulla macchina di un uomo più grande e andarsene con lui poi ripuliscono tutto bruciano i suoi indumenti i suoi effetti personali e tornano alle loro vite un pomeriggio come i tanti che ha un epilogo come i tanti quindi si torna a casa e si va a cenare intanto verso lì 18 l'idea la madre di Lorena si accorge che la figlia è in ritardo e che il suo cellulare è spento quindi avvise il marito e da lì iniziano le disperate ricerche vanno ovunque ma lei non si vede vanno prima dai parenti poi dalle amichette e infine girano senza una meta ovviamente formulano anche delle ipotesi ma non possono pensare al peggio quindi credono che Lorena sia fuggita con un fidanzatino tutto qui ci ha fatto la bravata tra poco tornerà Giuseppe il padre che è molto rigoroso e severo ve lo ricordate arriva a pensare ok Lorena mi ha fatto la bravata ha fatto la fuitina a 14 anni va bene non è nella prima né l'ultima purché stia bene ma in quegli attimi anche se tu non vuoi fa sempre capolino anche un altro pensiero cioè che a Lorena sia successo qualcosa di brutto a Niscemi tutti si conoscono conoscono i genitori di Lorena e Lorena quindi tutti partecipano e tutti parlano chiaramente della scomparsa di questa ragazza come vi ho detto i tre giovani quella sera tornano a casa e sono tranquilli cenano come se nulla fosse nulla li tradisce sono quelli di sempre infatti le famiglie non si accorgono di nulla e quello che stupirà di più è che effettivamente loro non prendono consapevolezza di ciò che hanno fatto nessuno di loro tre sono solo dei ragazzini cioè ormai sono quasi maggiorenni insomma diciamo le cose come stanno eppure comunque sono giovani riescono a tenere il segreto cioè loro riescono davvero a non parlarne semplicemente loro tornano alla loro vita come se nulla fosse non si accorgono di nulla i genitori non c'è un mal di pancia un'ansia posticipata un incubo nulla ok pacifici serafici perché loro sono convinti che la loro vita ora continuerà meglio di prima ma c'è come sempre Giuseppe il padre di Lorena il giorno dopo va al comando di Niscemi e denuncia la scomparsa di suo figlio ok ma continua a sperare nella classica fuga d'amore i carabinieri invece non credono nella fuga di Lorena affatto e prendono subito sul serio la sua scomparsa ma cercano innanzitutto di non spaventare la famiglia almeno in prima battuta partono le indagini e il maresciallo ben presto arriva a convocare questi tre ragazzi che sono Marco Antonio e Salvatore perché salta fuori che Lorena frequentava assiduamente i tre tutti i giorni praticamente si vedevano e tra parentesi nei 13 giorni in cui Lorena risulta scomparsa i tre conducono appunto la loro vita di sempre vanno al lavoro mangiano con i genitori vedono le loro fidanzate escono con gli amici ma mandano anche tanti sms a Lorena come sempre dove sei rispondi che fine hai fatto siamo preoccupati per te e la chiamano la chiamano tante volte questa è l'occasione per mettere in campo le strategie che si sono già precostituiti il 30 aprile quindi raccontano che hanno visto Lorena ma dopo qualche convenevole la ragazza ha ricevuto la telefonata di un uomo di Vittoria che ha una cittadina accanto a Niscemi quest'uomo quindi era venuto a prenderla in piazzetta e lei era salita con lui al comando dei carabinieri Giuseppe scorge questi tre ragazzi e immagina che c'entrano qualcosa che sapranno sicuramente con chi è fuggita Lorena magari con un loro amico un pochino più grande e non immagina assolutamente la verità questo buon uomo cioè non immagina che quei tre hanno fatto a pezzi la sua bambina la famiglia è disperata e questa voce dell'uomo grande di Vittoria aggiunge del dolore loro iniziano a girovagare come degli zombie degli automi anche per la città di Vittoria chiedendo di Lorena si aggirano per le strade senza una mieta ciondolano chiamando Lorena dopo una settimana di ricerche di Lorena ancora nulla si torna a interrogare quindi tra perché tutte le piste portano a loro e questa volta tra sono molto meno spavaldi iniziano a contraddirsi e non essere più così sicuri quindi i carabinieri li osservano e sentono puzza di bruciato cioè capiscono che stanno mentendo la famiglia di Lorena intanto inizia a perdere le speranze più il tempo passa e più le certezze di rivederla viva si affieboliscono perché perché ancora loro sanno che la loro dolce Lorena quella ragazzina assennata poetica quella figlia così amata e primorosa non li avrebbe mai condannati a dieci giorni di agonia non Lorena quindi il suo silenzio racconta troppo la cercano ovunque con tutti i mezzi il loro possesso persino con le unità cinofile che setacciano le campagne controllano i pozzi guardano davvero ovunque i genitori continuano chiaramente a sperare che lei sia viva da qualche parte ma è una speranza che si fa sempre più piccola dodici giorni dopo Lorena è stata davvero cercata ovunque ok nei paesini vicini negli anfratti nelle campagne anche dentro appunto ai pozzi a tutti i pozzi che sono riusciti a trovare e l'unica pista in assenza comunque di prove sono questi tre ragazzi su di loro ci sono solo dei sospetti ma poi arriva la svolta il tredicesimo giorno l'amica del cuore di Lorena racconta si convince o ricorda io non lo so di averla sentita al telefono proprio il 30 aprile cioè il giorno della sua scomparsa in quel momento Lorena si trovava in piazzetta e aspettava i suoi tre amici Marco Antonio e Salvatore erano loro ad averla cercata per sistemare una questione in sospeso e poi la saluta eccolo lì l'indizio come se non bastasse quello stesso giorno il tredicesimo un contadino chiama i carabinieri è in campagna a raccogliere gli asparagi quando nota un pozzo un pozzo che conosce bene ma che senza la sua copertura è istintivo dunque affacciarsi e controllare e quando lo fa vede l'orrore materializzarsi davanti a lui perché c'è un cadavere che galleggia sul pelo dell'acqua arriva la scientifica e il corpo viene riportato alla luce ma non è facile risalire subito a Lorena anche se tutti pensano a lei 13 giorni in acqua ci ricordiamo anche Sara Scazzi alterano il corpo e lei è irriconoscibile il suo volto non esiste più non ci sono più i bei tratti del suo viso ma è lei e sarà il papà mi chiedo perché a riconoscerla e la riconoscerà proprio da quelle mesh che non voleva farle fare la madre invece si vede arrivare una gazzella sotto casa quando apre la porta tipo scena da film ma dovrebbe secondo me è proprio così che avviene negli occhi di chi la guarda c'è già scritto tutto è finita Lorena non c'è più ma questo ormai lei lo sapeva già e il dolore spazza via a questa famiglia che non riesce a capire il perché soprattutto il perché una figlia amata venga a loro restituita dal mondo così che cosa le è successo chi le ha fatto del male sono delle ore angoscianti ma il dolore viene in parte mitigato da uno scopo almeno per ora cioè comprendere che cosa sia accaduto a Lorena e trovare i responsabili o il responsabile in men che non si dica quindi i genitori si ritrovano in saletta sono ore molto molto incalzanti quindi si ritrovano nella saletta del comando dei carabinieri al primo piano piantonati mentre di sotto si cercano delle risposte e ci sono i tre giovani sotto torchio loro negano ma ognuno dei tre inizia a mostrare segni di cedimento di strasse e alla fine confessano tutto e per i genitori quando lo sapranno è come se Lorena fosse stata ammazzata due volte perché sono stati proprio i suoi compagni a farle questo ora come non dirvi che il dolore non è solo per i genitori di Lorena ma chiaramente anche per quelli dei tre ragazzi il papà di uno di questi tre ragazzi ha un infarto e si sente male e lo stesso giorno anche la madre sta male e vengono entrambi portati in pronto soccorso loro non se lo spiegano davvero è una sofferenza incredibile veramente non capiscono che cosa sia accaduto quando il processo si svolge negli aule del tribunale minorile chiaramente viene ricostruito tutto i minimi dettagli di ciò che Lorena ha subito e saggia decisione i genitori preferiscono rimanerne fuori perché non è possibile ascoltare anche un solo dettaglio di quel maledetto giorno però ahimè i dettagli chiaramente saltano fuori si sussurrano in paese e i genitori loro malgrado verranno raggiunti anche da questi orribili dettagli i tre vengono condannati con il rito abbreviato per omicidio premeditato aggravato da violenza sessuale e occultamento di cadavere e la cassazione conferma 20 anni di reclusione che per minori per dei minori non è poco ok la cosa agghiacciante che questi tre ragazzi non sembrano provare alcun tipo di rimorso almeno uno no nessuno dei tre sono apatici indifferenti e se ne se ne fregano per le loro responsabilità se voi pensate che non ci sia più spazio in questo video per l'orrore vi sbagliate perché adesso io vi leggo una conversazione registrata il 4 giugno del 2008 in carcere quindi Lorena è morta e ad aprile a fine aprile un mese dopo circa loro tre dicono questo Marco dice ora che lei non c'è più mi viene da darle delle sberle Antonio a me viene la rabbia di andarla a prendere al cimitero e di buttarla nel muro e darle ancora schiaffi bello l'abbiamo ammazzata Salvatore non ti sei annoiato quando l'abbiamo ammazzata bello è stato vorrei ammazzare un'altra persona però senza farci la galera c'è il padre di un dei tre che ancora non riesce a credere che il suo figlio abbia fatto e detto queste cose e quando va a parlare con lui in carcere gli chiede sempre ogni giorno sei stato tu e il figlio non risponde vogliamo parlare anche del fatto che Lorena sia stata uccisa una terza volta perché cosa manca a tutto questo se non le chiacchiere della gente una parte di Niscemi condanna Lorena perché lei se l'è cercata perché una brava ragazza non va in giro contro i maschi e ci va pure a letto a mia figlia una cosa così non sarebbe mai potuta accadere e fa molto male anche uno dei tanti striscioni tenuti su da due ragazzine al funerale due coitanie di Lorena Lorena la tua ingenuità ti ha portato a questo ma noi ti ricorderemo per sempre ok quindi analizziamo Lorena la tua ingenuità ha permesso che tu fossi ammazzata violentata stuprata seviziata vogliamo dirle tutte però noi ti ricorderemo per sempre ovviamente è una frase scritta da due ragazzine ma da una mentalità non sono le due ragazzine a scrivere che in fondo in fondo è un po' colpa di Lorena se questo le è capitato non è colpa di Lorena né della sua ingenuità Lorena è stata uccisa diamo un peso a ciò che diciamo Lorena ha lasciato un fratellino piccolo il suo fratellino e la famiglia chiaramente si sforza di andare avanti per questo bambino che non comprende bene chiaramente la portata dei fatti persino un adulto non ci riesce lui le ha dedicato una poesia e con questa io voglio concludere lei era la più bella del quartiere dolce affettuosa e mi stringeva forte le piaceva uscire con gli amici buoni e cattivi un brutto giorno uscì con i più cattivi e mai più ritornò ma io l'aspetto ancora l'aspetto sempre era la più bella perché lei era mia sorella non mi sento di aggiungere altro se non un abbraccio grande alla famiglia di Lorena nella speranza che semmai come a volte avviene dovessero arrivare a sentire questo video non si sentano feriti ed è anche per questo che do la possibilità di saltare il pezzo più difficile perché perché magari non sappiamo chi possa ascoltare ciò che io racconto no quindi in questo momento io mi sto in fondo in fondo impossessando della vita di altre persone e la sto raccontando e con che diritto dico se non quello di cercare di farlo nella maniera più gentile e dignitosa possibile lascio tutte le vostre considerazioni i vostri commenti i vostri dibattiti qui sotto io vi leggo sempre metto solo un cuoricino molto spesso perché non riesco a rispondere a tutti per farvi sapere che vi ho letto chiaramente ci vediamo il prossimo martedì alle ore 20 al prossimo video grazie